E di colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera, sì sì proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi, ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est. Alexanderplatz, a Fiedersen, c'era la neve, faccio quattro passi a piedi fino alla frontiera, vengo con te. E la sera rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali, e ti piaceva spolverare, fare i letti, poi restartene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film. E aspetti all'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est. Alexanderplatz, a Fiedersen, c'era la neve, ci vediamo questa sera fuori dal teatro. Ti piace Schubert? A Fiedersen, c'era la notte.